L'Aquila 1927 e il Bosso, ambasciatori dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Presentata oggi e benedetta dal sindaco Biondi, la partnership già in atto, che vedrà diverse iniziative intraprese per diffondere sport e natura, ma non solo, anche cultura, inserendosi nel vivace fermento che il prestigioso titolo comporta. L'Aquila 1927 non serve neanche di dirlo, ormai l'esperienza dell'azionariato popolare sulle pagine di tutti i quotidiani di settore, lo facciamo anche con il Bosso, che attira ogni anno migliaia di persone da tante parti d'Italia, non soltanto, e quindi attraverso loro promuoviamo l'immagine della città e quello che vogliamo fare insieme agli altri territori coinvolti. Saranno diverse le azioni che accompagneranno il percorso, oltre alle sedi tradizionali del Bosso, anche lo store ufficiale del club Sportab e lo Stadio Gran Sasso diventeranno punti informativi per prenotare visite e avere info, e chi prenoterà attività avrà anche uno sconto per il materiale che si vende in store. Il 13 giugno già ci sarà una prima iniziativa di Orienteering in città. Partiamo direttamente il 13 da qui, proprio dallo store da cui poi nasce questa collaborazione anche oggi, da cui la sigliamo. Insomma, i ragazzi di L'Aquila 1927 partiranno da qui con un'attività di Orienteering, quindi un'attività diversa dal solito, esperienziale, che fa un mix tra la cultura, quindi andremo a visitare i luoghi della cultura, però in maniera esperienziale, quindi in maniera un pochino diversa, più originale. Utilizzeranno bussole, mappe, avranno a che fare insomma con strumenti che si usano normalmente sul campo per andare a visitare quello che effettivamente sono i luoghi della cultura. La novità è che ci sarà una maglia dedicata, che indosseranno gli oltre 300 operatori guida del Bosso, dalla costa di Trabocchi alla valle del Tirino a tutta la provincia passando per il Gran Sasso e che porta i luoghi del Bosso, dell'Aquila 1927, ovviamente dell'Aquila, capitale italiana della cultura, 2026. E quindi andremo su un territorio che magari fino adesso non erano prettamente i nostri, quindi grazie alla collaborazione con il Bosso e gli operatori che indosseranno questa maglia, sono più di 300, includeranno territori come la costa di Trabocchi, il nostro Gran Sasso, la valle del Tirino, con tutte le iniziative esperenziali che fa il Bosso e quindi siamo orgogliosi di poter portare il simbolo del capitale della cultura in giro per tutto l'Abruzzo.